Fall che ha realizzato il suo sesto gol stagionale ma soprattutto il gol del 2-1 sul calcio di rigore che ha consegnato questi tre punti davvero d'oro, Amet, vero? L'hai detto bene, questa era una partita da vincere, non con le giuste maniere diciamo, ma era importante portare a casa i tre punti e siamo felici di quello. Avete incontrato una squadra in difficoltà, veniva da tre sconfitte consecutive, è stata soprattutto nel primo tempo una partita un po' sporca, no? Anche noi eravamo in difficoltà, venivamo da una sconfitta in casa quindi psicologicamente parlando non era una partita facile da giocare, però devo fare complimenti ai miei compagni di squadra per sempre la reazione che ci mettono, vuol dire che ci sono i presupposti per fare un campionato importante. Ti volevo chiedere due cose su due episodi, uno che ti ha visto protagonista nel senso quel fallo, comunque quel contatto che c'è stato in area, tu sei caduto giù, non è stato fischiato il calcio di rigore, poi invece è stato fischiato un rigore su canale che sembrava meno evidente. Vabbè diciamo che ci poteva stare la mia come non ci poteva stare, alla lunga comunque c'era anche un fallo di mano, anche quello ci poteva stare come non ci poteva stare. Al terzo l'arbitro ce l'ha dato e quindi è importante che noi abbiamo chiuso con il gol. Ecco ti sei chiesto a mettere come mai nel primo tempo ma nei vari vostri primi tempi c'è sempre un po' di difficoltà nel costruire gioco? Vabbè è palese che noi siamo in un percorso che non è facile, è una piazza che è esigente ma come ho sempre detto i ragazzi ci mettono veramente tanta determinazione per ribaltare le partite. Sicuramente dobbiamo alzare l'asticella perché gli altri non aspettano, noi dobbiamo alzare l'asticella e dobbiamo crescere subito perché così sicuramente facciamo fatica a vincere. Hai guardato la classifica? Adesso la vetta è abbastanza affollata o meglio ci sono cinque squadre in tre punti? Secondo me è meglio così, meglio così vuol dire che noi quello che insistiamo, quello che insiste il mister durante la settimana e soprattutto sull'aspetto psicologico di crescere giorno in giorno. Poi sul gioco lui ci sta lavorando, credo che si sono presi posti anche per fare un buon gioco, poi ci vorrà del tempo. Per ora sono arrivati due nuovi acquisti, Vincenzo Gatto e anche Canale che ha giocato, ha esordito proprio oggi e che si è procurato il calcio di rigore. Questi due compagni come li hai visti? Subito si sono integrati? Sì, Gatto è un giocatore importante, ci vede che ha le misure, prende le misure dal centrocampo, ancora non è in condizioni ottimali diciamo, però è un giocatore che ci può dare una grande mano. Canale invece subito ha preso il rigore, però anche lì c'è da migliorare, non è che ha preso il rigore che noi in settimana gli facciamo le coccole, anzi bisogna secondo me ancora alzare più l'attenzione e crescere subito. Nello spogliatoio che cosa vi siete detti? Probabilmente qualcosa anche con l'allenatore, con i dirigenti? Ma guarda, noi facciamo sempre diciamo delle chiacchierate in modo positivo per cercare comunque di migliorare il nostro momento, perché è normale e se vogliamo vincere il campionato così non possiamo sicuramente giocare le partite in casa, perché noi per il gruppo che siamo secondo me dobbiamo essere un gruppo compatto, molto compatto. E' quello che io personalmente da capitano ho richiesto alla società, di essere più compatti, di avere un unico obiettivo, tutti quanti. Domonica prossima una gara che si prepara da sola, scontro al vertice contro il campo basso. Beh, sono le partite belle, noi abbiamo dimostrato di poter giocare queste partite, non le abbiamo mai perse con quelli grandi, là un campo caldo, la San Benedetto ci ha perso, studieremo le partite, studieremo la partita che hanno fatto anche contro la Samba e cercheremo di farli male. Ecco hai detto, scusami se ti interrompo, non avete mai perso con le grandi, però con le piccole fate più fatica, perché secondo te Amet? C'è anche un discorso che i piccoli, anche quando giocano con quelli grandi, danno il massimo. C'è l'arma a doppio taglio, che quando noi giochiamo magari con quelli che sono al nostro stesso livello, alziamo l'attenzione. Quindi può essere anche un discorso mentale.